Sovraindebitamento e desdebitazione sono i temi al centro del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Prato e in programma per lunedì 27 maggio dalle 14.30 alle 18.30 nella Sala Convegni dell'Ente. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con l'Ordine di Avvocati e Commercialisti, punta a far conoscere a privati cittadini e piccole imprese in difficoltà finanziarie gravi, la possibilità di ricorrere all'OCC, l'organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento interno alla Camera di Commercio. Una realtà che consente al debitore di mettere a punto un apposito piano di rientro con l'ausilio di un professionista preparato in grado di affiancare e consigliare il soggetto incapace di far fronte ai propri impegni economici. Deve essere una crisi economica consistente, deve essere quindi già consolidata e ci sono poi dei principi di meritevolezza che devono essere poi verificati prima di poter accedere al servizio, ma comunque l'organismo della Camera di Commercio è attivo proprio per dare assistenza a questi soggetti in questo senso. Allora sostanzialmente viene fatta domanda di nomina di un gestore. Noi procediamo alla nomina di un professionista che abbiamo inserito nell'elenco di un elenco di professionisti esistenti qui in Camera di Commercio. Nominiamo il professionista il quale poi si prende l'onere di accompagnare il soggetto e di attestare la congruità del piano che lui dovrà andare a realizzare in modo da condurlo all'omologazione da parte del Tribunale. Noi come Camera di Commercio, come organismo lavoriamo come soggetto ausiliario che va incontro al Tribunale, che aiuta il Tribunale da questo punto di vista. Alla fine se il soggetto collabora, se la documentazione che ci presenta è una documentazione esauriente, se ci sono i requisiti di meritevolezza, se ci sono tutta una serie di condizioni favorevoli, si può procedere alla omologazione da parte del Tribunale e pertanto si può arrivare alla esdebitazione, vale a dire alla conclusione di un procedimento che da quel momento in avanti una sporta di ripartenza, in quanto il soggetto da quel punto di vista lì, estinguerà i propri debiti sulla base del piano presentato. Il procedimento, frutto di una legge del 2012, è stato formalizzato e tradotto concretamente in appositi percorsi di sostegno finanziario solo da qualche anno. La Camera di Commercio di Prato, partita in questo senso nel 2018, ha ricevuto ad oggi otto richieste di aiuto per estinguere il debito. Lunedì l'argomento sarà affrontato dal punto di vista contabile e legale, con appositi focus tenuti dagli ordini di avvocati e commercialisti. Saranno presenti anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il giudice del Tribunale di Prato Maria Novella Legnaioli e il Fondo Santo Stefano, da sempre soggetto attivo nello sviluppo della microimpresa. Per partecipare all'evento è consigliata la registrazione sul sito della Camera di Commercio di Prato. Noi ci occupiamo, come tutti sanno, della nascita delle aziende, delle start-up, però in realtà il Fondo Santo Stefano è principalmente un progetto di solidarietà socio-economica e mi sembra che questa normativa sia uno dei pochi, forse purtroppo, esempi di applicazione di un principio di solidarietà di ambito generale.